buongiorno a tutti e ben ritrovati nella nostra splendida Livigno oggi è mercoledì 6 aprile siamo a 2300 metri di quota e siamo saliti fin quassù per godere di questo splendido sole primaverile dopo una settimana di temperature primaverili e di giornate di sole come è stata quella appena passata ecco quali sono le previsioni per la settimana prossima avremo nuovamente il sole ad essere il protagonista che si altererà qualche nuvola e le temperature medie saranno all'incirca attorno ai 10 gradi sopra lo zero al momento in paese ci sono 4 centimetri di neve mentre qui in quota ce ne sono ancora due metri e il momento ideale della giornata per andare a sciare è nelle prime ore del mattino vi ricordo che fare fuori pista è assolutamente pericoloso e proibito evitatelo o rischiate di venire multati o addirittura arrestati come vi dicevo prima oggi ci troviamo a 2300 metri di quota e siamo all'arrivo della telecabina tagliere costaccia il secondo tronco dell'allivigno tagliere che da quassù vi conduce tutto il resto della schiare a superiore fino alla telecabina carosello 3000 la telecabina vi porta in soli 8 minuti dal paese fino a qua in quota e da qui avete accesso anche a quella che è la seggio via valandrea vetta l'ideale non soltanto per gli sciatori professionisti ma anche per i principianti che possono divertirsi sulle sue piste blu e visto che ora di pranzo voglio portarvi a mangiare al rifugio costaccia andiamo arrivati in cima il primo posto in cui potete scomodarvi è l'ampia terrazza con un grande numero di posti a sedere è un fantastico barbecue dove assaporare gustosi panini se non volete mangiare di fuori potete entrare all'interno dove troverete un self service e un ottimo ristorante nei prossimi giorni l'appuntamento da non perdere è con il free il festival la settimana totalmente dedicata al telema che comincerà sabato 9 aprile la settimana prossima vi porteremo alla scoperta di uno dei suoi appuntamenti più speciali la tre palina in anticipo vi avviso che domenica 17 aprile si terrà la gara della pozza ossia il didi derezza siete tutti invitati a partecipare sia da soli sia in compagnia con i carri con gli sci in qualsiasi modo volete l'importante è che portiate tanta voglia di divertirvi e anche per questa puntata è tutto ci rivediamo la settimana prossima sempre su isquipazlevinio.com ciao